Vado Poi dobbiamo fare qualcosa con... Ah ma qua possiamo saltare E' vero Posso volerlo in teoria No Vado qua cosa faccio Ah ci vuole... Una chiave leggi e non mi guarda Che rinfo Cazzo AAAAAAAA Mamma! Ma non mi ha aspettato, ma non mi fico che ti è davvero?